Sarebbe stato bello negli ultimi 30 anni, non 3. Avere tutto registrato di quello che ho fatto sarebbe più importante dell'udice di Giorgio. Con soldi nostri andare a indagare dove ci sono distruzioni del paesaggio attraverso le paleoliche di qualunque bellezza, dove c'è violenza. No, ma poi quando tu non entri nel solito ruolo della televisione sei sempre molto apprezzato e quindi anche chi non apprezza alcuni dei tuoi sfoghi lì invece si è... Sono arrivato. Siamo entrati proprio... Adesso per Santa Croce. Vado a Santa Croce. Sì, sì, sì. Buona messa. L'ultima cena di Leonardo. L'abbiamo detto... Allora, questo è un annuto. Questo mi piace. Hai visto come ti hanno massacrato sull'anno e l'anno? Quando io gli stavo sul naso. Abbiamo fatto una scopertina. Toglimi le scarpe. Il mondo non è come lo vediamo, il mondo è un altro da sé, è un doppio da sé. È qualche cosa che è dentro gli artisti che riescono a rigenerarlo. Allora, come... Sì... Allora... Allora, come... Sì... Grazie a tutti